Sono state tre giornate molto interessanti e di altissimo livello scientifico, quelle dedicate ai lavori del convegno DSA-ADHD-autismo, un approccio multidisciplinare migliora la salute e le competenze neuronali, che si è svolto presso l'abbadia di Fiastra, Tolentino. Organizzato dall'associazione La Manotesa Onlus con sede a Morrovalle, in collaborazione con Centro Studi della Cato, Uniped, IOT e Istituto Comprensivo Via Piave-Morrovalle, l'evento si è aperto con un intero pomeriggio dedicato ai genitori e a tutti coloro che fossero interessati a saperne di più in fatto di disordini neuronali. Il programma delle due giornate centrali ha visto prestigiosi relatori, riconfermando i professionisti della prima edizione, con nuove presenze di caratura internazionale, come David Delacato, presidente della Delacato International Philadelphia-USA. Il successo terapeutico può essere ottenuto unendo conoscenze e competenze di quegli specialisti che si occupano di disturbi neuronali in età evolutiva. Il convegno, a cui tutti hanno potuto accedere, ha voluto fornire quelle informazioni multidisciplinari che dimostrano come un lavoro di equip può migliorare la vita dei bambini e delle loro famiglie. Siamo tutti qua concordi con la stessa motivazione, cioè, come dice il dottor Parisi, andare fuori dagli schemi, cioè considerare questi disordini neuronali come disordini biocognitivi e lavorare tutti insieme verso questa unica frontiera, cioè il recupero di disordini del tipo cognitivo. Tutti insieme vuol dire che oggi non siete stati soli, quindi non solo l'associazione Mano Tesa, ma anche altre strutture e anche autorità. Noi abbiamo teso la mano e tanti altri ce l'hanno stretta, dalle autorità che erano qui oggi e che non ci aspettavamo fossero così importanti e tante, quindi questo denota l'importanza dell'impegno che ci siamo dati e il fatto che anche le autorità respirino questa stessa nostra aria, cioè l'esigenza di fare chiarezza e andare tutti verso lo stesso fronte. Poi è impossibile non ringraziare chi ci ha dato aiuto e sostegno, qui la Fondazione Selva Bandini, la Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, il gruppo Delacato con a capo il dottor Parisi e quest'anno addirittura il dottor David Delacato che da Filadelfia ha fatto un salto qui da noi e poi la dottoressa Pedrinazzi, il professor Crispiani che già l'anno scorso da accademico comunque ci ha dato credito e quest'anno è tornato volentieri. Hanno spesso davvero il loro tempo per dedicarlo veramente ad un'associazione come la nostra piccola ma che sta facendo veramente cose più grandi di quelle che ci aspettavamo. Studi di settore evidenziano l'aumentata incidenza di disorganizzazioni neuronali, Anticamera di Autismo, DSA, ADHD, da qui la necessità di avere delle precise linee guida su valutazioni e approcci mirati. Autismo fuori dagli schemi, si può parlare di nuova era? Ci ha risposto il dottor Antonio Parisi. È sempre una nuova era, il nuovo giorno è una nuova era. L'impressione, la speranza, è che possa essere una nuova era dove le informazioni delle neuroscienze finalmente possano condizionare quello che poi è l'approccio clinico, il modo di fare diagnosi, il modo di fare un protocollo terapeutico, un modo di dare un senso scientifico all'atteggiamento comportamentale del bambino con autismo. Compito degli addetti ai lavori è indubbiamente quello di proporre strumenti per intervenire nel miglioramento delle caratteristiche relazionali e del rendimento nel bambino. Per questo è importante avere a disposizione un'equipe specialistica che intervenga e dia un valido supporto a chi opera nel mondo dell'infanzia, genitori, insegnanti, educatori. Attualmente quando si entra in una classe di scuola primaria, scuola elementare, sembra quasi di entrare in una clinica, c'è pieno di problemi a dismisura. Abbiamo fatto un lavoro di preparare i bambini della scuola materna a entrare nella scuola della primaria semplicemente con i prerequisiti alla scuola che attualmente sono in terza elementare. Abbiamo un unico bambino che ha qualche lieve difficoltà nella lettura. Anche i bambini con patologie gravi, chiaramente c'è qualcuno che non legge con la voce, legge con altre modalità, però tutti sanno leggere, tutti sanno scrivere. Io credo che il mio sogno di avere i bambini sempre più sani parta anche dalla prevenzione. Un buono stato di salute e un'adeguata rieducazione sono condizioni prioritarie per migliorare le funzioni del sistema nervoso e di conseguenza favorire i comportamenti e le performance individuali. Noi lavoriamo con tutti i bambini cerebrales, non solo autisti, con le bambini con la dyslia, con i problemi di movimento. Noi pensiamo che questo è un problema che viene dal cervello, un danno al cervello. Noi aiutiamo i genitori, noi mettiamo esercizi per i genitori, i terapisti di fare a casa, aiutiamo i bambini direttamente. Noi facciamo in maniera un po' diversa le terapie tipicamente qui in Italia. Il cervello è una cosa molto plastica e noi abbiamo fatto un vantaggio per questo caos, per il cambio, come un bambino sente una cosa, come usate le muscoli, come guardate le cose, come ascoltate le cose. I pedagogisti, i motricisti, i psicologi, i neurologi, naturalmente i biologi, si occupano del comportamento umano in questi aspetti, ma la ricaduta fondamentale è per la scuola e per le famiglie. E quindi interessa molto da vicino la prospettiva formativa e pedagogica. Si va verso un miglioramento dell'affronto del problema e della vita del bambino e anche della famiglia e di tutti gli affetti che vi ruotano intorno. Noi siamo deputati ad amministraresi i territori, ma anche e soprattutto ad ascoltare e a renderci partecipi, ognuno nelle nostre possibilità, nella nostra competenza, per aiutare chi studia, chi fa, chi si dirige verso i problemi delle famiglie e verso naturalmente questo mondo meraviglioso, ma al contempo molto complesso, dei bambini che hanno diverse patologie e hanno bisogno di tanta attenzione. L'approccio che viene adesso utilizzato per studiare, per dare una risposta all'autismo, forse va rivisto. Non è più un approccio lineare, mirato in maniera ansiosa a dare una risposta ai sintomi eccetera, ma questo concetto della circolarità e della sinergia tra più professionalità, più indagini anche fisiologiche, insomma, analisi del cervello, del sistema neurologico, questo per me è stata una scoperta, quindi meno quantità, più qualità. È bene che ci sia un humus, una partecipazione da parte di gente che opera nel settore e che tenga alta l'attenzione, quindi assolutamente un grazie ad associazioni che come queste di oggi tengono accesa questa luce. Anche quest'anno con qualche disagio forse, ma abbiamo voluto sostenere o ho voluto sostenere questa iniziativa dell'Associazione La Mano Tesa che trovo che sia estremamente importante, soprattutto non fosse altro per la vicinanza alle famiglie, alle persone che vivono problemi così gravi nell'ambito delle loro mura domestiche. L'idea è nata proprio dall'esigenza di dare un'informazione globale su quello che è questo mondo e poi di unire tutte queste conoscenze e queste consapevolezze e di metterle a disposizione dei bambini e di noi genitori. Quindi diciamo che è nata proprio da un'esigenza pratica di vita quotidiana. La ricerca di segni e sintomi in età precoce è essenziale per una buona diagnosi preventiva. Individuare l'area cerebrale in cui è collocato il danno e comprenderne la patogenesi sono le basi per sviluppare un progetto educativo adeguato per il piccolo paziente.